parliamo di trivellato dealer numero uno di mercedes fortissima sia nel nuovo che nell'usato sia per i track che per i veicoli commerciali ecco vogliamo dare ai nostri spettatori qualche numero ma sì buongiorno innanzitutto a tutti la trivellato veicoli industriali nel 2018 ha performato molto bene nel settore track abbiamo venduto 350 veicoli nuovi nel settore van quindi che comprende tutto il settore leggero abbiamo venduto 1200 veicoli nuovi nel settore usato abbiamo anche lì sviluppato delle vendite importanti quindi circa 800 veicoli usati e 100 track usati numeri davvero importanti appunto focalizziamoci quindi sull'usato sia per quanto riguarda i track che per i van quali sono le offerte che avete beh in questo momento diciamo c'è un ventaglio di offerte veramente interessanti anche perché riusciamo ad offrire sia dei veicoli completamente garantiti in euro 6 quindi con le ultime normative veicoli che hanno 3 4 anni di vita a dei prezzi veramente interessanti riusciamo ad abbinare ai prezzi interessanti anche delle rate veramente competitive e io so che trivellato ha molte molte sedi in tutta italia ecco qual è la distribuzione sul territorio ma diciamo che è trivellato nasce a vicenza nel lontano 1922 e dalla famiglia da famiglia trivellato poi negli anni si è sviluppata è partita con le automobili nei primi anni 80 ha preso il mandato mercedes benz track e anche lì ha sviluppato nella provincia di vicenza inizialmente e poi negli anni 2010 2011 nella provincia di padova rovigo e non ultima nel 2012 siamo approdati a verona che dove in questo momento stiamo parlando dove appunto abbiamo aperto l'ultima nostra sede grazie mille in bocca al lupo per tutto